Col Milan non dovevo partire per gli Stati Uniti d'America. Amici di Milan.soc, ben ritrovati! Sarà il mio prossimo tatuaggio. Col Milan non dovevo partire per gli Stati Uniti d'America. Eh sì, così parlò un ex giocatore del Milan. Ora entriamo nel dettaglio di questa assurda dichiarazione. Prima lasciatemi ricordare come sempre l'iscrizione al canale qui sotto, semplice, gratuita e lecchia il video e l'attivazione della campanella per rimanere sempre aggiornati in descrizione. È tornato per il mese, solo per il mese, l'ultima parte del mese di settembre, il nostro libro Vocabolario Milan. Mi raccomando, 10 euro per avere una serie di curiosità che riguardano non solo il Milan, ma il calcio in generale. È un piccolo nostro prodotto per aiutare il canale. Allora, andiamo per ordine. Intanto vi chiedo se avete visto il video di ieri sera, perché è veramente sconvolgente e ve lo lascio se non lo avete ancora visto alla fine di questo video, perché dopo che l'Inter ha millantato di farsi uno stadio e dopo che è stata non so quante volte aiutata, immersa nei debiti, ora ci pensa anche il Milan ad aiutarla proprio perché prende la decisione di fare uno stadio unico che sia San Donato, che sia San Siro, insomma non abbandona, non abbandona il cugino, il cugino scemo. Detto questo, ne parlo a lungo su quel video, quindi guardatelo. La dichiarazione è la dichiarazione di Colombo. Ripeto, col Milan non dovevo partire per gli Stati Uniti. Ecco come Ibra iniziò a chiamarmi Hulk. Dopo aver giocato parte della tournée, buona parte della tournée direi, con il Milan, l'attaccante classe 2002 Lorenzo Colombo è stato girato in prestito, lo sappiamo bene, con diritto di riscatto fissato a 7 milioni all'Empoli, dove ha avuto, quindi diritto di riscatto, dove ha avuto un ottimo impatto fin dal primo momento. Questa mattina il centravanti cresciuto nel settore rosso-nero, leggo una dichiarazione di ieri, di ieri sera, quindi ieri il centravanti cresciuto nel settore rosso-nero, si è concesso per un'intervista alla Gazzetta dello Sport, perché parto da Colombo. Non ho tutta questa nostalgia, ma perché capisco ancora di più la gestione scellerata, improvvisata di questa squadra. Le parole di Colombo sul soprannome Hulk mi interessano poco, il solito inutile Ibraimovic che dà soprannomi, forse questo è il ruolo esatto, quello che dà i soprannomi. Ci pensa per le gatti a fare questo, non serve Ibraimovic. Poi una battuta sulla tournée negli Stati Uniti con la doppietta al City, nello Yankee Stadium, col Milan, non sarei nemmeno dovuto partire, perché? Perché ero già dell'Empoli. Cioè c'era già l'Empoli a cui era stata data la parola e quindi sarei stato già... Allora io mi domando e dico, no? Ma porca miseria! Ma porca miseria! Qualcuno mi spiega per quale ragione andiamo negli Stati Uniti, d'America, e anziché provare l'ultimo della primavera, come hanno fatto City e gli altri, altrimenti come li batti. noi portiamo Colombo, che voi direte, beh certo perché lo mette in vetrina, così... no, era già stato fatto tutto, quindi non dovevi né promuoverlo e né farlo integrare per farlo giocare nella stagione in corso. Noi portiamo Colombo nella tournée degli Stati Uniti e lo facciamo giocare. Qual è la motivazione? Cioè qual è esattamente... cosa scatta nella testa di un non allenatore come Fonseca? Cosa scatta? Nella testa di un signore. Ah già è vero, uno mi ha scritto ma è una brava persona, ma andate allora a prendere qualche missionario in Africa. Quante brave persone ci sono? Qualcuno di emergency, qualcuno che fa il chirurgo, quelle sono brave persone. Cos'è la brava persona? Uno che è lì e prende fiorfiori di milioni, molto meno, ringraziando il signore, di quelli che prendono persone capaci, come potrebbe essere Sarri che si è messo a disposizione. Ve l'ha detto, io a gennaio vengo. Che cosa facciamo? Andiamo a chiamare Paolo Sosa? Sosa, ma cos'è? Cos'è? Siamo stati venduti al Portogallo e non lo sapevamo? Cos'è? Dobbiamo fare... cosa abbiamo in squadra? Ronaldo che dobbiamo parlare portoghese? Che cos'è questo tipo di atteggiamento? Perché portiamo un giocatore negli Stati Uniti d'America? Lo facciamo giocare quando non sarà e non è e non sarà un giocatore del Milan? Ma piuttosto faccio giocare sì a tutte le partite, per non dire il solito Camarda, piuttosto faccio giocare una riserva della primavera che gli facciano usare un po' di gloria. Ma perché Colombo? Quando già sai che non lo devi prendere, poi quell'altro Hulk. E lui giustamente ha detto me la son goduta, non dovevo dimostrare niente a nessuno. Mi son visto a fianco Alland, tra l'altro un giocatore del Milan, che gode del fatto che abbia giocato insieme a uno del Manchester City. Questo accadeva a noi, accadeva. Quando dicevano agli avversari ho giocato con Baresi, ho giocato con Maldini, ho giocato con Van Basten. Sono avvelenato. Adesso non facciamo passare che se dovessimo, ma non uso il condizionale, uso lo stracondizionale, andare a vincere col Venezia è tutto risolto. Perché tu il Venezia lo devi asfaltare, devi fare così. Prendi, che abbiamo oggi il Liverpool, poi questo no, questo niente, il Venezia. Poi che abbiamo? Poi abbiamo l'Inter, poi chi ci abbiamo? Queste le dovete superare, queste non sono partite. Mettiamo i titolari col Venezia, perché dobbiamo vincere, dobbiamo vincere col Venezia. Ma ragioniamo da zona retrocessione, ragioniamo così. Io spero nei prossimi giorni, perché saranno giorni impegnativi. Giochiamo sabato, giochiamo martedì, poi giochiamo il derby, la domenica sera. Ci aspettano dieci giorni, mica da ridere, ragazzi, eh. Prepariamoci, eh. E nessuno mi venga a fare una copertina, un titolo. Il Milan è risorto. Perché? E uso non il condizionale. 15 ne uso di condizionale. Se dovessimo andare a vincere col Venezia. Io quella non la conto, eh. Nemmeno la vedo, guardate un po'. No, la vedo, eh. Non lo so, c'è un campionato già finito. In più mi tocca sentire quello che sentirete nel video dedicato all'incontro tra Inter e Milan sullo stadio. Ma quando te ne vai, Gerry Cardinale? Non sei persona gradita. Non sei un presidente, non so cosa tu sia, proprietario, presidente, tutti i ruoli a cazzo. Te ne devi andare dal Milan. Te ne devi andare. Adesso te ne devi andare. Ciao.